Ok, ho deciso di essere John Wick questa volta, con le armi super accessoriate dovremmo conquistare i punti di questo castello Ok, ho ucciso il pilota di quell'elicottero, guarda, è esploso, butto giù l'aereo di carta, butto giù l'aereo di carta, non ci credo, guarda Oh, ce n'è un altro, guarda come ricarica, sono minuscoli i proiettili, li tira fuori uno alla volta, non ci credo Ma perché? Ma quante volte... Ma basta! Salve a tutti ragazzi, se non siete ancora iscritti, premete il tasto iscriviti adesso e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video Salve a tutti ragazzi, sono sempre Redbox e bentornati di nuovo qui su Ravenfield E oggi siamo qua in questa partita per utilizzare maggiormente archi e armi un po' strane Come la baionetta di un fucile e il revolver più piccolo del mondo E loro hanno tutta, tutta, tutta la fortezza, tutti, tutti i punti, noi invece abbiamo solo la barca Ma perché? Ma quante volte... Ma basta! Ho capito che c'è amore nell'aria, ma perché? Ma basta! Ok, ho preso uno Basta! Come corre con quest'arco? Comunque dobbiamo andare a conquistare la fortezza Mentre qua continuo a sentire l'office in the air Maledizione, il copyright È questo che vogliono darmi, vogliono darmi il copyright Oh no! Hanno fatto cadere un nostro aereo E tra l'altro stanno stravincendo loro Questa mappa sarebbe più bella da fare nel lato opposto Cioè noi che difendiamo la fortezza Perché dobbiamo attaccare una fortezza? Sarebbe proprio una figata Eh ma continuano... Oh! Uno l'ho colpito Però continuano a sparargli con la barca Quindi... Allora io non conquisto il primo punto Io conquisto il secondo Ah! Sneaky! Sneaky! Vai, 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 vai Per favore! Non uccidetemi proprio adesso! Ok, qui è il tempo della mini revolver Ok Conquistiamo questo punto Non dovrebbe spawnare nessuno Ma in caso io ho già il mio... Ma senti! Da dove viene questa musica? Ah c'è uno che arriva da là Il mini revolver è una presa in giro secondo me No Sì! L'ho preso, l'ho preso, l'ho preso E sto conquistando anche il punto Per ora sono da solo E ho ucciso quello lì che stava cercando di venire da me Dai conquista il punto Ma da dove? Ma la senti! Basta! Basta! Mi sta spaventando sta cosa Beh io nel dubbio tiro fuori la spada Oh ci sono anche gli aeroplanini di carta Guarda che figata! Ho scaricato anche gli aeroplanini di carta Basta con sto amore nell'aria Ah! Vedi che qualcuno mi sta sparando delle fre... Non ci credo dai Stavo conquistando il punto Ragazzi ho dovuto cambiare mappa E togliere l'arco di cupido Che a quanto pare era quello Che faceva l'office in the air Ogni volta E adesso dobbiamo conquistare questa Mappa medievale Con tutti i mezzi a nostra disposizione Tra cui questa mitragliatrice automatica Ok Ok c'è anche un car armato qua vicino Spero che non lo prendano loro C'è uno lì Allora abbiamo... Mi aiutate a conquistare il punto per favore? Ok preso Ok l'arco non è proprio l'arma migliore Aia! Aia! Abbiamo conquistato il punto Non ancora Non ancora Non ancora Non ancora Resisti resisti red Ok L'abbiamo conquistato Perfetto Chissà se il mini revolver È effettivamente utile O è solo una presa in giro Veramente Magari da vicino qualcosina lo fa Per ora non riesco a colpire nessuno Guarda come ricarica Sono minuscoli i proiettili Li tira fuori uno alla volta Non ci credo Ah sì 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 Funziona Funziona Oh per funzionare funziona Ok Aia! Che male Ho cambiato arco perché qua mi sembra un po' più close quarters Quindi Diciamo che questo arco forse è più utile Se avesse un puntino E io potessi vedere effettivamente Dove Dove cavolo Arriva il colpo Perché altrimenti come faccio? Cioè io sparo con l'arco Cioè io lancio la freccia Ma non ho un puntino Vabbè a quanto pare non serve per forza il puntino Abbiamo tre punti Loro ne hanno uno solo Eh però gli esplosivi ci sono anche Se ho messo quasi solo archi Perché ho messo le granate Aiuto Oh ci abbiamo il carro armato Andiamo avanti di sciabola No A quanto pare non basta Abbiamo vinto Perfetto Abbiamo un arco che spara tre E dico tre frecce alla volta Scocca Dovrei utilizzare i termini giusti Scocca Tre Ma tutti li spawnano Ok l'ho preso quello Oddio oddio quanti Ok ho preso un M4 Loro che che ok Loro possono usare solo gli archi Gli esplosivi E tutte queste cose qua Ma io volevo qualcosa di diverso Volevo un ritorno alle armi tattiche Ok ho deciso di essere John Wick questa volta Con le armi super accessoriate Dovremmo conquistare i punti di questo castello Dunque innanzitutto Devo imparare di nuovo a guidare Oh oddio E' vero che ho messo anche queste cose A terra 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 Aia Non mi sono fatto No non ci credo Mi hanno ammazzato mentre ero a terra Ma veramente Non so guidare l'elicottero Ma mi schianto Lo sapevo Non possiamo farci sconfiggere così da loro E io voglio usare il walker prima di morire Voglio usare il walker L'ho appena messo E' una figata E' il walker di John Wick Ok Ok Perfetto Spara con i colpi del fucile a pompa Quindi è da Da scontri ravvicinati no? Ah devo girarmi Altrimenti Devo ricaricare Aia Non riesco a mirare come si deve Conquisterò il vostro obiettivo Sto conquistando l'obiettivo Mi faranno esplodere Ah lo sapevo Ok Ho ucciso il pilota di quell'elicottero Guarda E' esploso Non ci credo Ho distrutto un elicottero con un M4 Oddio anche questo però è caduto Ed era uno dei nostri No C'erano troppi esplosivi Quindi Ho dovuto fare un po' piazza pulita Adesso Gli esplosivi saranno un po' ridotti Perché qua continuavano a buttarmi esplosivi Da tutte le parti Io non ci capivo più niente E stava diventando anche noioso E va Ma io li avevo tolti gli esplosivi Che cosa sta succedendo? Il gioco si ribella Mi vogliono far per forza Tenere questi cavolo di esplosivi Là c'è un aereo di carta E' una figata l'aereo di carta Ve lo posso assicurare E una volta sulle mura Vado qui sulla torre centrale E vado a conquistare questo punto Grazie compagni Che mi state dando una mano Con i vostri archi Ok abbiamo il castello Ora possiamo usare anche questo In teoria Eh ma questo è un'antiaerea Oh 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 E' nostro o' è loro quello? Credo sia loro Dai che lo butto giù Butto giù l'aereo di carta Butto giù l'aereo di carta Non ci credo guarda Oh ce n'è un altro Eh ma quello sta volando Veramente troppo lontano Ok andiamo via dal castello Aia mi sono spiaccicato Spostatevi Non riesco a vedervi benissimo Non so cosa sto colpendo Perché non posso Mirare come vorrei Purtroppo Con questo coso Però posso schiacciarli Tutti quanti Guarda l'elicottero Che cercava di partire Ah no lo sto spingendo giù Così non parti Voglio vedere come fa a partire Un elicottero messo così Oh c'è un elicottero però No questo è nei nostri L'abbiamo conquistato al punto No non ce la sto facendo Perché ci sono troppi nemici Che spawnano qui dai paraggi E l'elicottero ancora lì Ha il coraggio di rimanere Cadi giù Oh Questo è il loro Ultimo punto rimasto Tra l'altro Aspetta che mi sposto Che ho Guardate ho riempito di buchi Tutta la mappa Questo qua cosa sta facendo Ha la pistola banana Cosa sta Oddio 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 Mi arrivano dei missili Sono incastrato Io sono incastrato Sono glitchato Sono glitchato Oh Ok Sono uscito dal veicolo E mi sono ritrovato qua sopra Va bene Allora Guarda 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 Ho riempito di buchi Tutta la mappa L'ho fatto diventare un groviera Allora i nostri nemici Eccoli Oh Sono tutti qua sotto Ok Due li ho buttati giù John Wick che colpisce ancora Non puoi tirarti su Nemme Aia Guarda come sono rimasto appeso Guardate come buttano le frecce Questi maledetti Sono proprio Delle foreste Sono dei primitivi Primitivi Ma chi gliel'ha dati allora I veicoli così tecnologici Questi qua erano dei primitivi Usavano solo arco e frecce Com'è possibile Che adesso abbiano Oh cacchio Eh vabbè La freccia mi ha distrutto Come diavolo ripeto Sia possibile Che dei primitivi Con delle frecce Siano arrivati a fare Tutto questo Eh Me lo volete spiegare voi Allora andiamo dietro Quest'albero Mezzo sradicato Facciamo il giro lungo Non prenderai Quell'arma moderna Tu sei un primitivo Sono incastrato qua Mi sa che devo fare Il giro lungo Nuoto dentro là L'acqua in un modo Un poco strano Giro su me stesso Sotto l'acqua Mi sto inzuppando tutto Ma l'importante è che Salirò di nuovo Sulla terra Traferma Alzati Oh Non siete altro che dei primitivi John Wick vi distruggerà tutti Tutti ho detto Senza esclusione di colpi Voi le vostre frecce Non potete vincere contro il potere Eh invece si Vabbè abbiamo vinto Abbiamo visto queste nuove armi Super tattiche Abbiamo visto anche Il nuovo John Wick Che mi sto comportando Più o meno come lui Ma John Wick è molto più forte di me Abbiamo visto anche L'aeroplanino di carta Che ho abbattuto prima Magari in un prossimo video Se vi va Lo proveremo insieme Detto questo Io direi che Se questo video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Se volete altri video di Ravenfield Continuate a dirmelo Nei commenti Iscrivetelo E noi come sempre Ci vediamo nel prossimo video Ciaone